che mi aiuta nella scaletta tocca al numero 17 un personaggio che ho odiato nel trono di spade porta Oberyn Michele Michele un applauso per Michele ma me ne fai regino a volte come fa la giuria qualche domanda un applauso ma già ci sei qui è? sì sì ci siamo sicuramente è caldo anche noi non è fatta caldo quello che arriva adesso potrebbe anche io capirlo ci sono poi è di ora ciao a tutti i nostri amici ciao a tutti i nostri amici